a dare un aiuto. I ferrovieri della CGL, del Partito Comunista, non volevano questa sosta perché ritenevano che il treno fosse pieno di fascisti. Invece erano tutti anziani e molte donne e bambini. Ecco che una lunga trattativa, il treno fu fermato nello scalo Salesiani, poco prima del ponte di Galliera, fu fermato lì per qualche ora, la gente non poteva scendere e poi lo fecero transitare e questo sostentamento venne dato poi a Modena. La cosa più brutta è che rovesciarono anche gli alimenti che erano destinati a questa gente sui binari. Due giorni fa il cardinale arcivescovo su eminenza Carlo Caffarra lo ha nominato vicario generale e moderatore della Curia. Don Giovanni Silvagni, oggi Monsignore, conserva per il momento il ruolo di parroco a Granarolo e responsabile del vicariato di Bologna Nord. Vediamo il servizio di Massimo Ricci. Accanto ai nuovi e importanti incarichi affidati dal cardinale arcivescovo, Monsignor Giovanni Silvagni per il momento mantiene anche quelli di parroco di Granarolo e vicario pastorale di Bologna Nord. Secondo il codice di diritto canonico, il vicario generale è il primo collaboratore dell'arcivescovo nella funzione di governo. Il moderatore di Curia ha invece il compito di coordinare le attività che riguardano la trattazione degli affari amministrativi. Tra qualche giorno Monsignor Silvagni comincerà a prendere contatto con le strutture in Curia, pianificando il lavoro gomito a gomito con il cardinale. Per il momento Monsignor Silvagni ha rilasciato la prima intervista televisiva al nostro settimanale diocesano, 12 porte, in onda ogni giovedì sera alle 21. Ne sentiamo un breve passaggio in cui il nuovo vicario generale parla della chiesa di Bologna. Abbiamo una grande ricchezza che dobbiamo cercare di mettere a frutto il meglio possibile, abbiamo un presbiterio bellissimo, pieno di risorse, abbiamo un laicato appassionato, impegnato e riuscire così il più possibile tutto questo a valorizzarlo e a farlo fiorire credo sia proprio il compito di sempre e quindi anche in qualche modo il mio. Toltiamo pagina, sono ancora molto critiche le condizioni di Sergio Govoni, 86 anni, storico artista bolognese, rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un autobus ieri pomeriggio in via Andrea Costa a Bologna. La dinamica dell'incidente all'esame della Polizia Municipale non è ancora stata ricostruita con precisione. Non è chiaro se l'anziano fosse appena sceso dal bus o si trovasse sul marciapiede. L'uomo ha subito l'amputazione di una gamba, è rimasta schiacciata sotto le ruote posteriori del 21 ed è ancora ricoverato nel reparto rianimazione dell'ospedale maggiore. Sergio Govoni, in arte Sergov, è un pittore, intarsiatore ed ebanista che per decenni ha riprodotto scorci di Bologna in quadri e sculture in legno. Il suo studio si trova in via Zannoni, poco lontano dal luogo dell'incidente. Speriamo un attimo e poi saremo di nuovo in studio con ITG. Un'altra notizia, e altri servizi. A tra poco, state con noi. Di nuovo in studio con ITG. Prima di andare avanti con il giornale andiamo a rivedere i titoli del nostro telegiornale. Picchiavano e rapinavano coetanei, poi si vantavano su Facebook e questa leggerezza ha tradito una baby gang di giovanissimi denunciati a Bologna dalla polizia. Quattro due minorenne e due maggiorenni sono accusati di una serie di aggressioni avvenute negli ultimi giorni. Guardi di Piccassa, Modigliano, Schifano, tutti falsi ma sul mercato clandestino avrebbero reso milioni di euro. Sono alcune delle opere sequestrate dai carabinieri fra Bologna e altre città della regione. In forte aumento la contraffazione di opere d'arte. Il Partito Democratico avverte il commissario Namaria Cancellieri. Se deciderà di correre per la poltrona di primo cittadino, cesserà immediatamente la nostra collaborazione, mette in chiaro il segretario provinciale del PD, Raffaele Donini. Il ministro Gelmini dice che si può ricordare il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia durante le ore di lezione, ma i presidi non ci stanno e annunciano iniziative. Intanto gli studenti di azione universitaria annunciano picchetti davanti alle facoltà. Al Teatro Duse continua Enrico Cartellone grazie alla Compagnia Teatro Aperto. Da domani fino a domenica Guido Ferrerini sarà la varo di Molière. Dagli studi di palcoscenico in Ferrerini racconta uno dei suoi cavalli di battaglia. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Proseguono le truffe a persone anziane a Bologna. Anche ieri ci sono stati due episodi. Uno è riuscito e l'altro fallito per la reazione della vittima. In via Pasubio una donna di 89 anni è stata derubata di diversi gioielli da due finti tecnici Anel che si sono presentati con cappellino e tutta da lavoro. Dopo averla spaventata inventando un grave guasto all'impianto elettrico e dicendo che sarebbe potuto esplodere l'intero palazzo. L'hanno convinta a tirare fuori tutti gli oggetti in oro che aveva in casa. Quando si sono allontanati sono spariti anche tutti i monili. È invece andato a vuoto un tentativo di truffa ai danni di una signora novantenne che abita in via Mezzofanti. Qui malviventi si sono spacciati per tecnici di era, incaricati di verifiche per una fuga di gas nel condominio. Appena hanno detto che era necessario spostare gli oggetti in oro la pensionata ha capito che si trattava di un imbroglio e li ha cacciati di casa. In entrambi i casi denunciati alla polizia i due sono stati descritti come italiani sui 50 anni, mori e di altezza media. Ultima pagina. Sabato prossimo in tutte le farmacie delenti a questa iniziativa si trarà la giornata della raccolta del farmaco. Vediamo il servizio di Gabriele Sciarra. Antipiretici, antidolorifici, colliri, disinfettanti. Sabato prossimo a Bologna e in tutta l'Emilia Romagna torneranno in azione 1.500 volontari che presso le 335 farmacie aderenti raccoglieranno farmaci in occasione dell'undicesima giornata della raccolta del farmaco. Per evitare accumuli di un medicinale in particolare i clienti saranno consigliati dai farmacisti su quale tipo di farmaco da banco c'è maggiormente bisogno. Le donazioni andranno a favore di chi vive ai limiti della sussistenza, un esercito che secondo l'Istat conta in Italia oltre 7 milioni e 800 mila persone. I farmaci raccolti andranno subito distribuiti a 120 enti e associazioni convenzionate. La buona azione è doppia visto che il ricavato dalla vendita dei farmaci poi donati sarà devoluto da ogni farmacia alla Fondazione Banco Farmaceutico Ollus. Le farmacie che sabato aderiranno all'iniziativa esporranno un'apposita locandina. Andiamo adesso al Teatro Duse dove continua Enrico Cartellone grazie alla compagnia Teatro Aperto. Da domani in fine domenica Guido Ferrerini che è anche direttore artistico del DEON si cimenterà con l'Avaro di Molière. Ce ne ha parlato lo stesso Ferrerini dagli studi di palcoscenico in, sentiamolo, intervistato da Alessia Salvatore. Dall'11 al 13 febbraio al Teatro Duse di Bologna arriva Molière con l'Avaro e a portare in scena questa rappresentazione è la compagnia Teatro Aperto, compagnia tra l'altro creata proprio dal DEON Tivoli. Esattamente, è la nostra compagnia che entra, lo dico con un sorriso sulle labbra perché la nostra compagnia è l'unica che non è mai stata al Duse, quindi entra per la prima volta sul palcoscenico del Teatro Duse portando un classico che noi abbiamo già fatto molte volte di Molière che è l'Avaro. Noi porteremo diversi spettacoli di cui parleremo al Teatro Duse in questa stagione, in questo caso si tratta dell'Avaro che io interpreto da protagonista che è stato segnalato a molti premi, lo spettacolo che ha avuto grande successo, qui è in una nuova edizione che metterà uno sguardo particolare sulla cattiveria dei personaggi, cioè sulla cattiveria dell'umanità in sostanza. Un particolare solo da aggiungere che per tutti gli abbonati del Teatro Duse, per questa iniziativa così come per tanti altri, per tutti gli abbonati che abbiano conservato la tessera dell'anno scorso e anche degli anni precedenti, l'ingresso è gratuito. Speriamo un attimo e saremo poi di nuovo in studio con ETG, a tra poco state con noi. Di nuovo in studio con ETG, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, quindi possiamo rivedere ancora una volta i titoli del nostro telegiornale. Picchiavano e rapinavano quei tanni e poi si vantavano su Facebook e questa leggerezza ha tradito una baby gang di giovanissimi denuncianti a Bologna dalla polizia e quattro due minorenne e due maggiorenne sono accusati di una serie di aggressioni avvenute negli ultimi giorni. Quadri di Picasso, Modigliani schifano, tutti falsi, ma sul mercato clandestino avrebbero reso milioni di euro, sono alcune delle opere sequestrate dai carabinieri fra Bologna e altre città della regione, in forte aumento la contraffazione di opere d'arte. Il Partito Democratico avverte il comissario Namaria Cancellieri, se deciderà di correre per la poltrona del primo cittadino, cesserà immediatamente la nostra collaborazione, mette in chiaro il segretario provinciale del PD, Raffaele Donini. Il Ministro Gelmini dice che si può ricordare il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia durante le ore di lezione, ma i presidi non ci stanno e annunciano iniziative, intanto gli studenti di azione universitaria annunciano picchietti davanti alle facoltà. Al Teatro Duse continua Enrico Cartellone grazie alla Compagnia Teatro Aperto, da domani fino a domenica Guido Ferrerini sarà la mano di Molière, dagli studi di palcoscenico in Farrerini racconta uno dei suoi cavalli di battaglia. E' tutto con questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi, a tutti voi una buona serata, arrivederci.